Camminare si sa porta molti benefici alla salute ma camminare per un sentiero in tutta sicurezza in mezzo alla natura è in grado di lasciare emozioni e sensazioni uniche. È quello che deve aver pensato Rietta Darmi, l'ideatrice del Cammino d'Abruzzo, un progetto che invita tutti noi ad essere viandanti alla scoperta di un territorio magari in cui si è nati ma che risulta poco conosciuto. Il Cammino che può essere percorso anche in mountain bike e su alcune tratte anche da coloro che hanno disabilità motorie ha una lunghezza totale di circa 660 chilometri. Ad oggi la posa della segnaletica è giunta al chilometro 240 ma entro pochi mesi la lunghezza raddoppierà per essere completata entro il 2023. L'itinerario in 33 tappe tocca 71 tra città e borghi, 4 parchi, oasi e riserve del WWF e 18 presidi slow food in un girotondo ideale passando per i quattro capoluoghi regionali. Noi abbiamo già dal 2017 percorso questi 660 chilometri di sentieri facendoci aiutare dalla gente del territorio, da persone locali, dai contadini che abbiamo incontrato lungo i nostri trattori e facendoci appunto aiutare a scoprire quali fossero i passaggi per evitare l'asfalto e quindi l'auspicio è quello di far arrivare l'Europa e il mondo a percorrere il nostro progetto, il nostro cammino d'Abruzzo per dare loro l'opportunità di scoprire non solo la bellezza del territorio ma anche assaporare il cibo territoriale, tutto quello che di bello l'Abruzzo e gli abruzzesi hanno da offrire. Chi viene a scoprire questo cammino è un viandante, che cosa significa essere viandanti? È una persona che porta la casa per oltre 33, 34, 35 giorni, il tempo di percorrenza, poi chiunque può sceglierlo, si porta la casa dentro uno zaino. Il viandante è una persona curiosa, attenta, rispettosa soprattutto del territorio, come unica impronta deve lasciare sul nostro territorio soltanto il suo sorriso. Chi volesse partecipare a questo progetto, cosa deve fare e con chi deve mettersi in contatto? Con l'Associazione Culturale Abruzzo a Piede Libero noi rilasciamo il passaporto del viandante e chiaramente è necessario per ottenere dei prezzi di riguardo in tutte le strutture che abbiamo contattato sull'intero territorio regionale che si sono convenzionati proprio per dare un prezzo favorevole a chi si mette in cammino.